Quando uno dice, ma poi, quando arriva tuo fratello in studio, non ho fratelli, voi lo sapete, io ho una sorella adorata, ma arriva tuo fratello, tu come lo presenti? Ho avuto l'onore di lavorare per 11 anni con un grande giornalista e giornalista politico che lavora a Sky TG24 e che canta, ed è Massimo Leoni! E dai! E dai, sì! A parte sono imbarazzatissimo per le tue parole, insomma, di cui ti ringrazio ovviamente. È vero, è vero, bravo, sei bravo. No, spero che non si preoccupino, perché lo sai, casa mia è davanti al Palazzo Chigi, no? Quindi, magari non mi vedono lì, vennero qui e qualcuno potrebbe non preoccuparsi. No, 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 è solo in prestito in qualità di ospite, ma per raccontare come non da oggi, perché quando io l'ho scoperto ho trovato una notizia eccezionale, Massimo Leoni sia... Non dire tutto però, eh! Non diciamo tutto, mi raccomando. Per carità. Parble, un grande amante e appassionato della musica innanzitutto, no? Eh, sì, la musica ha accompagnato, diciamo, la mia vita da un sacco di tempo, diciamo. E che cosa fa? Canzonette Morali! Ecco. Eccolo qua! L'ha fatto! L'ha detto e l'ha fatto, Leoni! Io sono abituata che ogni cosa che lui dice la fa, ma, e lo so bene, ma ecco qua, ha fatto il suo disco. Eh, ce n'è voluto, eh! Ce n'è voluto? Qui ci sta roba scritta veramente tanto tempo fa, tra l'altro alcuni pezzi in inglese erano scritti perché allora io cantavo in inglese, no? E poi quando ho pensato di farne quello che tu hai in mano, ho detto, adesso mi rimetto a scrivere altre cose, quindi ci sono cose abbastanza vecchie e cose invece molto nuove. Eh beh, ma il, come dire, si è mescolato un'esperienza, insomma, la Scoop Jazz Band. Ah, beh, la Scoop Jazz Band, eh! Io lì ho visto per la prima volta, ti ho visto all'opera... Mi fai ringraziare Dino Pesole per questo. Grande Dino Pesole, che noi salutiamo... Dove leggi Dino Pesole, sul sole 24 ore, ti parla di Mario Draghi, piuttosto che... Il più autorevole giornalista economico italiano, e lui suona la chitarra e mi ha chiamato anni fa nel suo gruppo. Io lo ringrazio ancora perché ho ripreso a cantare con lui e per il suo invito. Tra l'altro dopo una cosa brutta che era successa alla mia famiglia, mio padre se n'era appena andato, quindi mio padre anche cantava, insomma, è tutto legato. Quindi partiva da lì la passione. Quindi ringrazio molto Dino. Papà, papà aveva passione per il canto. Eccolo qua. Eccolo qua. O che bello. Eccolo qui. Questa. Ed era lui? Questa è dura, eh. Eh, lo so Massimo, però... Però è fatta, guarda, lo sai, con... Assolutamente. Se vuoi questa è una dedica a te, è una dedica alla tua mamma. Sì, sì, assolutamente. È una dedica alla tua famiglia. Grazie. E capita, no, che delle passioni che appartengono a una persona che amiamo immensamente, ai nostri genitori, poi ce le ritroviamo addosso. Ma sì, qui c'è tutto, insomma. Questo disco, cioè... Racconta molto di me, ma racconta anche storie che non mi riguardano, insomma, in qualche modo. E' anche così, insomma, una cosa, un esercizio di fantasia e di riflessione su un po' i tempi. Allora, attenzione. E fin qui, guardate, la storia c'è tutta, perché stiamo parlando, perché poi racconteremo, anzi, lo racconterà lui, lo racconterà il nostro Massimo. Nostro, attenzione, sul nostro ospite, sia chiaro. Perché certa gente, giustamente, dice, ma come? Eh, non stiamo facendo scippi di sorta. Certo che quando fai il tuo primo disco, e duetti con Giorgia... E beh, allora, signori, sentiamo un po' dalla regia, grazie. Leoni, questa... Lavora per la zattera Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sull'isola di lei Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Il legno che col tempo, il tempo Il tempo Ha fatto più incerto E non sa navigare Ora c'è l'alta malea e tutto si cambia, forse il viaggio è la casa e la cura Insomma, duettare con Giorgia, com'è successo? Io l'ho ringraziata in tutti i modi, lo faccio anche qui, anzi mi devo scusare perché qualche giorno fa Sky di G24 mi ha concesso di presentare questa cosa, anzi ringrazio tutti i colleghi che hanno accolto con grande affetto questo lavoro e penso che mi sono dimenticato di ringraziare lei, allora mi permetti di farlo qui? Ma quella è l'emozione Massimo, quella è l'emozione, dai su! Mi ha fatto un regalo enorme, siamo amici da tempo in realtà, prima le ho chiesto un parere su quello che avevo scritto, lei me ne ha dato uno molto lusinghiero, dopodiché mi sono azzardata a dire guarda se tu vuoi mettere anche A sul disco, per me dovunque tu lo metta va bene lei mi ha detto eh non so perché sai devo vedere i miei e lei ovviamente ha contratti diciamo che importanti e pensava vabbè mi ha detto così perché è un modo per uscire dopo un paio di mesi di mattina abbastanza presto mi telefona e mi dice guarda tutto risolto ho parlato con i miei facciamo dimmi che cosa vuoi io fa, lo faccio ecco qua e guardate è l'applauso che facciamo a questa professionista perché Giorgia è una persona Giorgia è una persona bellissima, sì è una persona bellissima e poi ovviamente c'è questo dono, quello che sa fare lo sapete tutti è meraviglioso, insomma quando uno dice canzonette morali, adesso arriviamo anche a Leopardi, Massimo Leoni tra l'altro con una meravigliosa copertina, si chiama ancora così, si chiama ancora copertina quella di di Alessandro Casanova che è anche un amico che ogni diciamo piccola immagine si riferisce un po' a un pezzo, tranne il televisore che si riferisce a me che però in quel momento vedi c'è la spina staccata perché hai staccato per un attimo, poi arriviamo anche alla domanda alla domanda sul tanto lavoro, vi posso garantire tantissimo lavoro, parlavamo poco fa della capacità di studiare, io raramente ho visto una persona studiare più di Massimo Leoni, so quello che dico e a proposito di studio c'è una signora anzi una maestra che si chiama Susanna Stivali a cui tu devi tantissimo perché c'è sempre no il, eccola qua, c'è sempre il nostro, ma si deve andare a cercare, ma Leoni ma dico, ma il minimo storico sindacale era essere precisi e puntuali, se io sono tuo fratello lei mia sorella diciamo, quindi è una persona, che ti ha insegnato questa grande donna di voce e di musica? Intanto a scoprire, a non scartare le cose che sembrano da scartare e che invece sono, arricchiscono molto la musica, il jazz è fatto di questo, è nato per questo diciamo, tutto quello che viene scartato prima il jazz l'ha preso e l'ha reso bellezza e lei è una persona che fa questo e che insegna con una passione eccezionale, adesso è in Brasile tra l'altro, sta presentando il suo disco che ha fatto con Cipo Buar, tanto per dire, tanto per citare, ed è un'altra persona di quelle che devo ringraziare. Perché tu vai a scuola? Io sono andato, adesso è un po' che sinceramente, però se facciamo qualcosa dal vivo del disco e spero di farlo, spero anche in posti di qualche importanza mi devo rimettere un po' sotto a studiare e quindi quella persona che vede lì mi dovrà dare una mano. È un'ottima maestra, è la tua ottima maestra. Assolutamente sì. Massimo, canzonette morali che chiaramente riporta e che è una citazione, insomma, si avvicina vagamente al grande poeta, no? Sì. Anche perché se poi si leggono i testi, sono testi che danno da pensare, che si ascoltano molto volentieri. Intanto sono canzonette, quindi la canzonetta è il modo... Guarda, sono solo canzonette, la cantiamo ancora, quel disco chi ce l'ha in 33 giri se lo tiene ancora, quello di Edoardo Bellato. No, è il modo in cui l'Italia intrattiene se stessa da sempre, insomma, da un sacco di tempo. Quindi intanto è questo, è musica. Morali, perché in quel periodo quando ho concepito quest'idea stavo rileggendo le operette morali e c'erano tante cose che, anzi invito, che chi ha tempo e voglia... Riporta da lì. È un italiano un po' ormai desueto, eccetera, però c'è tanta di quelle cose, ci sono tante di quelle cose dentro. È un ricamo. A questo punto, da questa finestra appoggiato al pianoforte, poi si va invece a guardare le finestre. Attenzione, della politica tutta, perché tu sei un appassionatissimo di politica, di costituzione italiana. Quante volte, Massimo, mi hai dato lezione, mi hai preparato... No, ma tu non hai bisogno di alcuna lezione, Paola, assolutamente. Mi hai aiutato a lavorare su una materia, la politica, che è una cosa seria e sulla quale bisogna lavorare seriamente. Ecco... È una cosa seria? No, no. No, nel senso che può... No, può esserlo. Può esserlo e dovrebbe esserlo. Benissimo, può essere e dovrebbe esserlo. Reazioni dal mondo della politica, Leoni. Quali sono state al vederti, molto anglosassone questa cosa di vedere un giornalista che canta, no? Guarda, lo sai che non ho esplorato questo territorio, sinceramente. Anche perché, diciamo, questa idea è nata con molta cautela anche, no? Perché era una scommessa, nel senso che fai una cosa che non c'entra niente con un'altra, devi creare un personaggio che non esiste. In realtà poi io non ho creato nessun personaggio. Sei uguale. Io ho fatto sempre queste due cose, quindi... Forse, guarda, hai tolto la cravatta. Ecco, diciamo questo. Sì, ogni tanto, sì, qui sto... Qui stai. Quello è casa mia, il mio studio. Ah, ma a casa tua c'è tutto, c'è lo studio, c'è che, insomma... A casa mia c'è quanto basta per buttare giù degli appunti ben fatti, diciamo così, ecco. Di buona musica. Sì. Il prossimo lavoro? Cioè, se il giornalismo o il cantante? No, il cantante. Il giornalismo ne ho una certezza. Il cantante? Il prossimo lavoro? Intanto facciamo in modo, speriamo che questo lavoro crei, diciamo, le premesse per farne un altro. Io continuo a scrivere, poi vediamo. Non perdetelo mai di vista, perché Massimo Leoni, Sky TG24, giornalista politico di altissimissimo livello, sa cantare e sa fare musica. Con canzonette morali, duettando con Giorgia. E credete, non è da tutti e non è in tutti i giorni. Leoni, vieni qua che facciamo una foto, così lanciamo... Chi è che ci riprende? Chi è che ci riprende? Andiamo di qua? Di qua? Di là? Qua, qui? Come è? Eh, là. Ecco, là. Canzonette morali, Massimo Leoni. Grazie. Ci fermiamo solo per un attimo. Torniamo tra un istante, lasciate le tendenze scalancate. Anni tornino, anni tornino, bello. Bravo, bravo!